Darfo Barrio Terme, questa volta in Coronelli e Viviani, il campione olimpico su pista, confeziona una vera e propria imprese e due anni dopo festeggia ancora sul traguardo Camuno, due anni prima come tifoso per il tricolore della fidanzata Elena Cecchini, oggi da nuovo campione italiano. Vince in volata, come spesso ha fatto quest'anno anche al Giro d'Italia, non ultimo a Iseo, vince una gara dura, tosta, tenendo testa da scalatore, lui che scalatore non è, su un muro come quello di Cornaleto, dove due anni fa era primo tifoso di Elena Cecchini che incitava proprio su quelle pendenze, non si è fatto intimorire nemmeno dalla situazione al portacolori della quick step di Bramati, il campione olimpico all'ultimo chilometro di una gara nervosa e caratterizzata dal gran caldo, si è ritrovato solo con due uomini della bar in Merida, ma ha controllato e quando ha capito che era il momento ha piazzato una volata delle sue prendendosi la maglia tricolore. E così Darfo Buario Terme diventa indimenticabile per Elia Viviani, che veste la maglia da campione italiano, dove era stata incoronata la fidanzata per un tricolore Camuno che è diventato cosa in famiglia in una stagione per lui incredibile. I 233 chilometri di gara sono stati caratterizzati da una lunga fuga, prima di 5 uomini, poi diventata man mano più ampia, fino a raggiungere ai 25 dal traguardo le 17 unità, con Marcato, De Marchi, Os, Santo Romita, Pozzo Vivo, Battaglini, Puccio, Tonelli, Viviani, Visconti, Felline, Pozzato, Canola, Gatto, Barbine. Il gruppone con Nibali, Moscon, Colbrelli e Ulissi, grandi favoriti della vigilia, ridotto di inseguire ad oltre due minuti di distanza, diceva che nell'ultimo degli otto giri sarebbero stati fuggitivi a giocarsi la vittoria finale, con Os e Viviani a battagliare e con la spettacolare salita di Cornaleto a far la selezione prima di tuffarsi verso il traguardo dopo tre chilometri. Uno straordinario Viviani sulle rampe al 17% tiene la ruota di Pozzo Vivo, uno scalatore, e la copia al comando viene raggiunta da Visconti. I due della Barè in Merida devono far tattica contro il velocista della Quickstep, il favorito del terzetto nell'ultimo chilometro, Madarfo Buario Terme, terra di conquista per la famiglia Viviani e così, due anni dopo la fidanzata Elena Cecchini, tocca a lui la festa tricolore. E festa tricolore è stata, oltre che per il campione olimpico in pista, anche per il comitato organizzatore, la cittadina termale ed il pubblico ha siepato soprattutto sulla salita di Cornaleto a regalare una cartolina bellissima della prova tricolore. Sotto gli occhi del Citi Cassani, la prova che ha segnato la maglia di campione italiano è stato uno spettacolo sportivo ed organizzativo perfetto che ha salutato anche la carriera di Tamiano Cunego. Il piccolo principe ha salutato a Darfo Buario Terme il ciclismo dei professionisti, la sua ultima tra i pro. In una valle camonica che spesso ha frequentato nei ritiri con la lampra è stata un'emozione per lui, per i suoi tifosi e per tutti i tifosi del ciclismo, che insieme a lui applaudono il nuovo campione italiano su strada, un altro veronese come Cunego, Elia Viviani, a cui il piccolo principe cede il testimone.